Pronti? Via! Allora, prima puntata? Stamattina siamo in dolce compagnia, Pasquale, Silvato, Imi, Luigi, Riccardo, Riccardo Colino che già prima mattina... Riccardo vuoi partire su fare anche tu? Da oggi comincia la prima... La prima puntata del barriapietto della sera! E' una cosa buona! Tipo la casa buona! Allora, il commento di oggi qual è? L'albero di Natale... No, è la macchina regalata alla fine! No, l'albero di Natale... L'albero di Natale... L'albero di Natale... Non andiamo a... Se guardate qui fuori mi hanno regalato una macchina... Non so che è stato questo figlio di gran puttana... Però, affaccio! Buona fotografia! Affaccio! Vai, vai, vai! Viva la macchina che mi ha regalato! Vai, che bello! Ecco, la parcheggiata a Londra... Questa è la macchina di Raffaele! Regalata di Raffaele! Mentale, se provoca sui quanti ti verrà bene! No, no, cliccheranno a monete! E questa è la notizia oggi? No, la notizia... La prima! Gian Battista c'è! Alfredo, ci siamo stati! Il nostro caro... Il nostro caro... Il nostro caro... Il nostro caro... Il caro... Vieni qua, Silvano... Fatti vedere, vieni, fatti vedere in faccia! Silvano, vieni qua! Hai capito? Tu sei tipo un mostro di Firenze, già! Non vi coglioni! Il nostro sindaco si sta riprendendo... Il dottor Sardegro... Il caro che vuole parlare... Mimmo verrà verso le 10! E il resto... Tutto a tutto male! E la giornata è finita! Oggi è stato... La fiera è stata... La fiera è questa... Non c'è questo... Il maltempo! E qua è un canale... Aspetta, non si muove! Ecco qua, vai! Continua... E' il nuovo... Vai, vai, entra! Il nuovo arriva! Ehi, il caro è morto! Il caro è morto... Ma non avrei bisogno di questa gente, però... Ma sempre corna! Sempre corna! Ma da un amico... Entra... Puoi entrare... Chiudiamo? Chiudiamo? Buongiorno! Oggi ne abbiamo 17! Da oggi... Non si chiudono le macchine! Che macchine? Scusa, che macchine? Che macchine? Che macchine? Che macchine? A trovarlo con le soldi! Ma le potete aprire la macchina! Ma le potete aprire la macchina! Scusa, il signore cosa c'è da dire? Grazie, ci vediamo! Ciao! Grazie, grazie! Non problema mio! Sì! Il signore? No, che sono...